Eravamo abituati a vedere i bus pieni di gente, in piedi, a sedere nelle fermate. Oggi, ai tempi del Covid, la situazione si è capovolta. Poche persone e a debita distanza. Ieri il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha firmato un'ordinanza valida dalla mezzanotte del 7 maggio che fissa le regole da rispettare sui mezzi pubblici locali. Sugli autobus sarà obbligatorio l'uso di mascherine. I passeggeri dovranno indossarla già nel momento in cui si trovano nelle varie banchine o stazioni. L'autista potrà sospendere la corsa in caso di inosservanza della disposizione. La salita e la discesa dai mezzi, invece, dovranno avvenire con flussi separati in base al numero di porte. In ogni caso, è vietato stazionare nell'area adiacente al posto di guida o avvicinarsi al conducente per qualsiasi motivo. È sospesa, infatti, la vendita dei biglietti a bordo, possibile online o tramite applicazione, ed è ridotta l'attività di controlleria. Con delle catenelle non ci si può avvicinare alla zona del conducente, ma stiamo realizzando giorno dopo giorno una serie di protezioni in plexicla in modo da isolarlo ancora di più. In caso di raggiungimento del numero massimo di passeggeri, l'operatore potrà rifiutare l'accesso ad altri utenti. Se prima in un bus come questo potevano sedersi 59 persone, oggi potranno farlo in 15. Altra norma poi riguarda l'igiene e la reazione dei veicoli. Praticamente è inibito l'uso del ricircolo dell'aria condizionata, quindi l'aria viene presa da fuori e viene buttata fuori dopo averla climatizzata. Lunedì scorso Adriabus, che gestisce il servizio nella provincia pesarese, ha registrato 3.400 passeggeri. Un calo drastico, spiega il direttore Benedetti. Basti pensare che in tempi pre-covid i viaggiatori erano 40.000 ogni giorno. C'è una ripresa della domanda di trasporto, per cui già dall'inizio della prossima settimana saranno intensificati i collegamenti tra alcune località, che sono naturalmente quelle per cui la domanda è sicuramente maggiore. Sarà importante, conclude il direttore, rispettare le regole per il bene di tutti. Lo slogan della nostra campagna è la tua sicurezza e la nostra sicurezza. E poi rispetto agli altri, rispetti te stesso, insomma penso che il significato sia pieno in queste pochissime parole.